Ciao a tutti! Oggi apriremo vestiti i carniti! Apriamo! Vai Carlo, apri la prima bustina Curiosissimi di scoprire cosa c'è all'interno Cos'è? Leone Fai vedere qua! Aspetta, facciamo vedere prima ai nostri spettatori Ma quanto è bello questo leone Si chiama Piron Piron Eccolo qua, il Piron C'è una rivista con personaggi che possiamo trovare E mi direi che ci sono altri? No No Fantastico Allora, questo è Piron Eccolo qua! Carlo, apriamo la seconda bustina? Si Eccolo qua! Wow! Questo è... Questo è... Piron 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 E' ultima E' ultima Terza e ultima bustina Piron 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 Ed eccolo sulla rivista Ed eccolo sulla rivista Vediamo da più vicino Eccoci tutti e tre i nostri personaggi Adesso vi farò vedere tutti insieme Adesso vi farò vedere tutti insieme Uno, due e tre E' Eccoli qua Carlo qual'è il tuo preferito? Lui Lui? Sì A me piacciono tutti Non riesco a scegliere Va bene Bene E con questo video abbiamo finito Mettetevi a tanti mi piace Iscrivetevi al canale Ciao Ciao a tutti A presto A presto Al prossimo video